benvenuti benvenuti cari amici siamo vedi in questo nuovo video oggi ovviamente come sempre andiamo a parlare di bitcoin terra luna shiba inu e infine sejus ma soprattutto andiamo a vedere ora il punto sulle altcoin terra luna più 18,6 per cento rispetto a ieri come possiamo vedere il resto delle altcoin completamente in rosso per cui questo ci deve far ben riflettere su quello che sta avvenendo all'interno del sistema di criptovalute tra l'altro anche shiba inu segna un più due per cento quindi sia luna che shib sono in controtendenza in questo momento naturalmente io vi ricordo come sempre alco index a 94 come dicevano i latini ripetita juvent per cui attenzione e ora andiamo a vederci quello che prezzo bitcoin in questo momento siamo a 21.444 dollari ok quindi che cosa sto vedendo che cosa sto osservando allora siamo all'interno di questa trend line ok ascendente con minimi crescenti quindi ottimo e attenzione perché questo potrebbe essere un nuovo bottom per quanto riguarda il prossimo movimento per cui quello che mi aspetto è che probabilmente bitcoin andrà a riattaccare ok 21.800 dollari e sarà qui ok che si gioca la partita perché se bitcoin non riuscirà a ripassare questa soglia che psicologicamente è molto importante in questo momento attenzione perché potremmo ritornare ok a fare questo movimento ovviamente perdere la trend line implicherebbe come ho detto più volte ritornare ok direttamente sui 20.000 dollari anche se come avevo detto più volte in questo momento considerando le probabilità è più probabile che bitcoin vada ad attaccare i 21.800 e magari rompa ok perché comunque supportato dalla media a 50 giorni e nel caso rompesse secondo me il prossimo target sono i 23.000 dollari ora detto questo torniamo a quello che avevamo detto ieri quindi binance sostanzialmente ha lanciato ok questo articolo nel quale spiega come i depositi verranno bloccati sostanzialmente fino alle ore 22 ok di oggi perché sostanzialmente come avete visto c'è un blocco di 9 milioni ok di luna e attualmente che cosa ci hanno postato all'interno di questo articolo guardate qui parlano anche la proposta 35 68 e la proposta 40 95 come noi ben sappiamo la proposta 40 95 riguarda lo staking che verrà lanciato oggi quindi naturalmente se riuscirò vi andrò a fare anche un secondo video aggiornamento che nel caso comunque noi ci rivedremo domani perché samubit è sempre qui presento che per aggiornarvi e naturalmente ci hanno parlato anche dell'aggiornamento della versione 22 quindi secondo me almeno questa è mia idea binance sta andando a sostenere luna poi proposta 35 68 perché binance l'ha citata attenzione vedete più volte come all'interno del codice secondo me già binance ha inserito questo bar dell'1.2 per cento naturalmente potete anche smentirmi potete commentare dire la vostra e naturalmente noi tutti sappiamo che cosa implicherebbe se effettivamente binance andrà a sostenere luna in tale modo vi ricordo che binance detiene circa il 40 per cento che di token di lung per cui attenzione perché questa veramente potrebbe cambiare tutto per quanto riguarda la luna ora sono andato anche a guardare quante persone stanno stacando luna all'interno di questo piccolo questionario è addirittura un 47 per cento afferma di avere messo tutto in staking secondo me comunque una cosa da pazzi che comunque voi andate a delegare sostanzialmente a dei validatori i vostri lung più del 50 per cento ok abbiamo un 20 per cento meno il 50 per cento i propri lung abbiamo un 18.5 per cento e ovviamente troviamo un 14 per cento che non li ha proprio steikati secondo me bisogna aspettare ok naturalmente quali sono i più affermati validatori in questo momento vi lascio qui ovviamente sarete poi voi a decidere vi ricordo che anche c'è orion ok quindi è un progettone come validatore poi abbiamo all notes smart stake insomma tantissimi altri per cui andateli a vedere ora andiamo un po ragionare quello che sta avvenendo su luna perché guardate qui su binance i volumi sono aumentati del 67 per cento quindi un qualcosa di assurdo 142 milioni ok di volume ma soprattutto quello che a me ha sorpreso il volume in generale più 357 milioni nelle ultime 24 ore pari a un 447 per cento ed è per questo che che sostanzialmente tara luna è andato a fare un skyrocket davvero pazzesco più 17.17 per cento per quanto riguarda market cap che raggiunge quasi gli 800 milioni in questo momento ora andiamo a darci la action secondo me interessantissima ok ieri skyrocket siamo passati dai 10 mila addirittura ai 14 mila per cui lung si è fatta una giornata ieri un più 40 per cento ora piccolo scarico che secondo me è fisiologico io mi sono posto qua questo supporto sui 11 mila a 200 e 75 che per ora non è stato ancora colpito che potrebbe essere colpito in un eventuale scarico però dal mio punto di vista se noi teniamo questo livello che rappresenta una vecchia resistenza attenzione perché secondo me luna potrebbe fare un movimento di questo tipo quindi andare a ritestare i 11.200 comunque si è fatto 11.600 quindi siamo lì e successivamente prendere andare su e quali target mi sono dato su luna sul breve periodo 16.681 perché rappresenta guardate qui una vecchia resistenza di giugno in particolare del 29 giugno 2022 ora andiamo a vedere shiba inu e celsius e poi chiudiamo per oggi almeno come ci siano poi i aggiornamenti anche shib fa più 9 per cento che quindi ottimo perché sostanzialmente c'è stato un burn molto ingente guardate qui dal grafico altri 100 milioni shiba inu sono stati bruciati rispetto a ieri quindi se continuassimo con questa media in un mese sono circa 3 miliardi ma dal mio punto di vista bisogna continuare in maniera ancora pingente però considerando che siamo all'interno di un burn market direi assolutamente non male quello che sta facendo shiba inu che proprio barna secondo me è appena all'inizio quindi andiamo a vedere un collection di shiba in questo momento siamo a 1.353 anche qui avevo parlato più volte soprattutto quando eravamo qui ok in zona 1.800 io ho detto supporta 1.700 che ha fatto tangenza con la media a 50 giorni ok quindi avevamo preso qui successivamente dump scusate media 200 è questa successivamente dump quasi tangenza con la media 50 eccola qua quindi ora che cosa potrebbe avvenire allora dal mio punto di vista potrebbe avvenire questo cioè lateralizzeremo e lo sto già dicendo da un po di tempo all'interno di questo range quindi 1.700 barra 1.300 quindi ottimo secondo me per chi trada se andiamo a vedere in questo momento rischio rendimento rischio scusate rischio meno 3 per cento ok quindi siamo praticamente livelli di supporto un rendimento potremmo andarci a prendere un 24 per cento che secondo me è molto ma molto interessante ovviamente come sempre sono ne così fianza ne così tra e naturalmente chi vuole maggiori informazioni vi ricordo gruppo elite per pochissimi ok quindi sono a parte le iscrizioni come avevo già detto da ieri naturalmente la domanda è ridotta ok non vado accettare chiunque ma solamente persone di qualità e che vogliono imparare ora andiamo a vedere celsius in questo momento 1.18 dollari però che cosa è interessante su celsius la seguente cosa cioè noi abbiamo preso abbiamo preso 1.18 però su 1.18 abbiamo un bel supporto ora la situazione in sale non è bellissima ok però secondo me potremmo riavere un rimbalzo anche perché guardate quanto distiamo dalla media 200 e dalla media a 50 media 200 distiamo un 63 per cento media 50 distiamo un 12 per cento quindi attenzione a celsius ok perché secondo me potrebbe avere un rimbalzo ovviamente vi dico la verità io ho già chiuso lo short e per il momento attendo attendo perché secondo me è essenziale vedere quello che succederà perché non è una cripto che in questo momento in salute girano veramente notizie assolutamente bearish però volevo farvi notare questa formazione che ho visto per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire il like iscriviti al canale e ci vediamo presto